Ieri il Sindaco Forte che ringraziamo ha organizzato un incontro con l'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco. Siamo stati invitati noi del comitato pendolari Vercelli, io rappresento la linea Vercelli Milano e abbiamo avuto questo confronto con il nuovo assessore. Ringraziamo l'assessore perché è venuto a Vercelli, cosa che in tutti questi anni di militanza del comitato non è successa numerose volte, quindi lo ringraziamo. Abbiamo portato le nostre esigenze più importanti in questo momento che sono la biglietteria di Vercelli che è in una situazione ormai insostenibile in quanto è solamente aperto uno sportello che riteniamo del tutto insufficiente per un capoluogo di provincia come Vercelli e questo causa infinite code soprattutto nei periodi di rinnovo degli abbonamenti. Abbiamo chiesto inoltre l'inserimento di un treno in partenza da Milano nella fascia oraria 19-1915, possibilmente un freccia bianca, in quanto in questa fascia di pendolari esiste solo un treno delle 19-18 regionale veloce. Inoltre abbiamo chiesto un tavolo permanente di confronto tra Trenitalia, le istituzioni locali, la regione, il comitato pendolari e l'inserimento della fermata di Rò per i treni regionali della fascia 17-18 in partenza da Milano. L'assessore ha preso in carico le nostre proposte, non ci aspettavamo sinceramente un riscontro immediato, però confidiamo nell'opera di pressione dell'assessorato verso Trenitalia per cercare di soddisfare le nostre esigenze. Altresì che in questo periodo la linea non è in un periodo drammatico, i disagi ci sono sempre e le questioni di pulizia, puntualità, sicurezza hanno sempre ampi margini di miglioramento, però non possiamo dire che siamo nel nostro periodo peggiore, quindi anche il rientro è stato tutto sommato accettabile.